Eccoli qui che stanno ancora girando Chuck secondo cazzo Il primo è il vostro posto di per la volta che avete fatto vedere la manca della nostra posta che hanno portato i punti, l'obesimalità, la mancolografia costoni, giusti e tessoni sicuramente rispetto a una settimana passata a mio amministratore ricordo che la prevenzione l'uomo verrà assicnato l'uomo 2015 e non caro che avrò il gioco il maggior compagno quindi sommando a tutti i fonti nel caso e che volano costoni e colori e ogni sigla categoria che è deciso l'uomo verrà assicnato l'uomo 2015